Il governo ha deciso di non riconfermare Giovanni Legnini come commissario alla ricostruzione. Al suo posto è stato nominato l'ex sindaco di Ascoli e senatore di Fratelli d'Italia Guido Castelli. Legnini commenta la notizia facendo per prima cosa gli auguri al senatore Castelli. A lui vanno i miei auguri di buon lavoro, dice, insieme alla piena disponibilità a favorire un ordinato passaggio di consegne. Ho esercitato la funzione commissariale per 34 mesi con totale dedizione, passione e imparzialità, sempre avendo a mente la sofferenza delle persone e delle imprese colpite dai terremoti del 2016-2017. La ricostruzione del centro Italia oggi si presenta molto cambiata rispetto a tre anni fa. Abbiamo varato importanti semplificazioni e innovazioni normative, tra le quali il testo unico della ricostruzione privata. Negli ultimi tre anni, nonostante numerosi ostacoli ed emergenze, sono state presentate 15.000 domande di contributo per la ricostruzione. Sono stati approvati e finanziati oltre 10.000 cantieri privati e anche la ricostruzione pubblica, dove contiamo centinaia di cantieri aperti e oltre 1.000 prossimi all'apertura, è ben avviata. Molti altri interventi pubblici aggiuntivi sono programmati e il piano complementare al PNRR per le aree sisma, in avanzata fase di attuazione, favorirà lo sviluppo dei territori colpiti, fornendo risorse per le imprese e le infrastrutture materiali e immateriali, come la rete integrata di ricerca degli Atenei del Cratere, che porterà alla creazione di quattro poli universitari di eccellenza nelle quattro regioni che è stata finalizzata in questi giorni. Dei risultati del mio mandato e delle attività della struttura, dice Legnini, i cui componenti ringrazio uno per uno, darò conto nei prossimi giorni con il rapporto sulla ricostruzione, con il quale periodicamente abbiamo comunicato con trasparenza all'andamento della ricostruzione, con dati e informazioni puntuali. Tra l'altro pioggia di commenti pro Legnini da tutto il mondo politico, centrodestra e centrosinistra, hanno sottolineato infatti l'ottimo lavoro svolto appunto da Giovanni Legnini.